Non ho nemmeno idea di cosa sia stato laggiù. Nel quale momento mi guardo allo specchio e quello che vedo mi fa paura. Non vedevo l'ora di tornare in Italia. Salve, mi dica. Sono in città da poco. Un amico in comune mi ha detto di venire qui. Gamalè ci ha parlato di te. E' bene, non vuoi quello. Tu lavorerai al mercato. Saremo noi a rintracciare te. Sono anni che mento per sopravvivere, quindi almeno una volta cerchiamo di essere sinceri. Ciao, bentornato. Il gruppo è comandato da Hassan, o così si fa chiamare. Vi dovete preparare. Non hanno un covo. Cambiano sempre per non farsi scoprire. E finora non si sono mai riuniti tutti insieme. Quindi è impossibile eseguire un raid. Una rapina in grinnata. Senti sottotiro questi due, Maximo. Adesso mi spiegate come avete fatto a fare questo casino. Non accetterò più nessun errore. Buonasera. Buona pizza con i funghi e dell'acqua cassata con i limoni, per favore. Mi starea confiato sul collo. Non respiro. Soffoco. Mi controllano ogni movimento, ogni spostamento. Sempre solo. La mia famiglia non c'è più, gli amici, le donne, nulla. Continua a darci informazioni parziali. Non vorrei avessimo fatto una nuova gala. Chi ti dice che non sia diventato uno di loro? Ma sicuramente non è stato un caso che la polizia è arrivata proprio mentre avveniva lo scambio. Ma chi cazzo sei tu? Ma chi ti conosce a te? Non direi che cazzate! Fa' il cloro, cara! Mando a fuori culo tutto, vado via, lascio la missione! Ti lascio la merda! No! E faremo saltare il secondo fuoco al po'. Scriveremo la storia. Via, via, via! Uscite con le mani di lato! Tu non puoi mai fidarti di nessuno perché nessuno è come sembra.